no 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 stavo guardando la partita mi è presa l'ansia ho pensato sabato voglio un caffè via fuori no 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 ce la faccio io no 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 mi è venuto in mente sabato stavo guardando il gioco vabbè due squadrette però con l'inter sembra una fiorentina con l'inter la fiorentina sembra il cazzo del barcellona stella parca puttana con l'inter se il west ham avesse quelle maglie nero azzurre giocavano come animali non ce la faccio basta finale non non ne voglio vedere finale stasera ma penso che ce la possono fare la fiorentina ce la può fare tanto la seguo da un barli che sicuramente alla partita ma non ma non ce la faccio ragazzi no è che cazzo vuoi è più forte di me non non ce la faccio devo girare devo fare un giro domani svezia domani vado a prendere i dinosauri i dinosauri domani svezia e poi inizia l'estate con i miei bambini e vaffanculo basta e prendiamo per il culo qualcuno stai ma non ce la faccio stavo guardando ma ho detto guarda mi è preso male dove andare a prendere un caffè via 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 mi è preso male malissimo male 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 comunque la fiorentina ce la può fare perché quei due due sono pericolosi pacchetta e quell'altro non sono un cazzo quindi però madonna mia ragazzi ma questi giocano solo contro l'inter in in questo modo e che cazzo stelle non ce la faccio o cazzo vuoi io non ce la faccio io finale non la voglio vedere solo sabato basta